Bisogna ricordare anche questo, quindi io partivo in bicicletta dal Castlass, venivo in piazza fontanese al padrone perché lui non si muoveva e venire a dire se vendevi, se comprare, perché eri mezzardra, perché tutta l'attività del fondo doveva essere comunicata al padrone. Quindi io facevo questo viaggio moltissime volte, mi sono buttata nel fosso perché c'erano gli apparecchi schietiti. Un giorno addirittura ero talmente coraggiosa che ho detto ma è possibile che sparino a una bicicletta e basta? Infatti sono rimasta sulla strada mentre l'apparecchio mi piumava. Un giorno all'ospizio mi presero, che era il posto di blocco fascista, che c'era sempre, ma quel giorno c'era perché avevano ammassato una persona e c'era un gruppo di fascisti che venivano da San Maurizio verso l'ospizio, che c'era la casa del Fazio, con un ragazzo matullato su una, come si dice, una barrella improvvisata con dei legni e un po' di fascine sopra e c'era un ragazzo e che cantavano allarme sean fascisti. All'ospizio dove è il passo livello della ferrovia, lì c'era il posto di blocco, perché quel giorno lì si vede che era una giornata tutta particolare e mi presero la bicicletta. Per me la bicicletta era tutto, era la Ferrari dei miei giorni, della mia giovane età. E quindi mi presa la bicicletta e io avevo una borsa con dentro del materiale. Subito presi la borsa e me la tenevo bella stretta. E poi cominciai a urlare e a piangere, era tutto un po' una finta, avevo anche paura, ma anche proprio una finta. E un fascista mi guardò un po', poi prese la bicicletta, me la buttò addosso e siamo caduti io e la bicicletta. Però sono stata tanto svelta e poi mi ha detto non passare mai più da queste parti. Lo ricordo ancora, avevi stivaloni alti così, a me sembrava che fosse un gigante, tanto era poi mica vero, ma nella mia immaginazione era così.